Buonasera amici di pubblico di Olio Vino Peperoncino, siamo su una barca, siamo pronti per una degustazione molto importante, questa sera abbiamo degli ospiti che ci allieteranno con i loro vini ci allieteranno anche con il racconto delle loro cantine e la prima cantina che andiamo ad incontrare è l'azienda di Cantaruti Alfieri, Cantalfieri suona molto bene, ci presenteranno poi loro stessi i loro vini ma andiamo subito a presentare questo prodotto, è una cosa molto bella, piacevole, si chiama Epilogo, Epilogo di Cantalfieri, è un, come potete vedere, è una bella etichetta, è un buon vino, è un metodo classico ottenuto da un Pinot nero 100% e io passerei subito a dare un'idea, ad avere un'idea di cosa possiamo trovare sia al naso e poi successivamente anche in bocca. È una buona lavorazione, il vino si presenta come un classico metodo classico, scusate il gioco di parole ma ogni tanto capita e sicuramente un vino che ha nella sua freschezza il coronamento di questo, diciamo pure, equilibrio, anche se naturalmente dobbiamo andare un po' più di piovo perché l'equilibrio è dato proprio da queste sensazioni che abbiamo e direi comunque che come siamo soliti fare, la cosa più bella da fare in questo momento è alzare il bicchiere e a tutti in alto i calici.